C'è stato un apprezzamento da parte delle sigle sindacali e dei loro rappresentanti per questo confronto che c'è stato con l'amministrazione comunale di Coglia al Metauro che porta ad una firma di un documento condiviso. Un apprezzamento particolare c'è stato per quel che riguarda la nostra attenzione al sociale, ai giovani e al mondo della scuola, con un aumento proprio di risorse finalizzate a questi settori, un rafforzamento dell'informa giovani. Per quel che riguarda le scuole soprattutto è stato apprezzato lo studio della vulnerabilità sismica di tutti i nostri istituti scolastici. Si sta andando ad una serie di progetti esecutivi per delle ristrutturazioni per i quali abbiamo anche ottenuto dei fondi regionali già inseriti quindi in questo bilancio. Un'altra cosa che quest'anno noi facciamo per la prima volta è aver uniformato le tariffe su tutte e tre le ex municipalità, dei tre ex comuni che oggi sono Coglia al Metauro, e abbiamo introdotto un IMO medio-bassa su tutto il territorio al 9,4, una politica quindi ormai uniforme di tutta quella che è la collettività di Coglia al Metauro. Un apprezzamento forte c'è stato anche per l'individuazione da parte dell'Asur 3 Marche di Calcinelli come sede della Casa della Salute, dove lì saranno uniformati tutti i servizi sanitari di questo territorio, poliambulatorio, l'appotesi, il distrito sanitario. Sarà una bella risposta per questa collettività e per questa parte di vallata del Metauro. In ultimo elenchiamo anche un attimo le opere pubbliche previste su questo anno per 3 milioni e 300 mila euro che vanno innanzitutto per una viabilità sostenibile, quindi tendenzialmente marciapiedi, piste ciclabili a 850 mila euro, e una cosa molto molto importante finalmente è la creazione di una sede unica per il comune di Coglia al Metauro che sarà la sede della delegazione di Calcinelli. Lì abbiamo investito, investiremo 1 milione e 700 mila euro perché una sede di un comune che dovrà stare lì per i prossimi cent'anni merita una attivazione diciamo con una messa a disposizione al meglio per quel che riguarda chi dovrà lavorarci all'interno ma anche la collettività che dovrà fruirne. Grazie